Nel video di oggi parliamo del mercato dei DJ. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Il video sul mercato dei DJ è stato uno dei primissimi che ho fatto su questo canale. Ne è passata un bel po' di strada, molte delle considerazioni sono le stesse, però è arrivato il momento di aggiornare un po' il contenuto, anche in virtù di questo straordinario tra virgolette 2020. Dobbiamo considerare nel porsi come DJ in quello che è il mercato, il mercato di riferimento di qualunque esso si tratti. Questo perché in molti continuate a scrivermi vorrei riuscire a inserirmi, vorrei riuscire a trovare delle serate, vorrei riuscire a lavorare un po', però sai qui non è così semplice. Non è semplice da nessuna parte, perché in un contesto piccolo ci sono pochi spazi dove esprimersi e magari situazioni abbastanza piccole a cui fare riferimento. In un contesto grande potenzialmente ce ne sono molte di più, però la concorrenza è molto più ampia e più serrata. Ho fatto l'esempio di Londra, dove ho in qualche modo vissuto per un periodo, e a Londra è comunissimo per i DJ andare a suonare gratis. Questo perché c'è un enorme afflusso di persone da tutto il mondo e anche di DJ che vanno lì per cercare fortuna. Di conseguenza per i locali c'è un'ampia disponibilità di DJ a cui attingere e allora te che arrivi da zero con mille pretese non hai nessun modo per attrarre la persona che ti trovi di fronte e ti vede per la prima volta. L'unico modo che hai è concedere una serata a dimostrare quello che sai fare sul campo, con il rischio però che dal momento che è pieno di persone vanno a proporsi di fare il giro di tante serate gratis prima di trovarne qualcuna che paga. Questo perché appunto c'è un'enorme offerta di DJ. È opportuno quindi considerare come in qualsiasi mercato la domanda e l'offerta. È anche vero però di contro che a Londra i DJ veri, diciamo così, sono molto ben pagati perché laddove creano delle situazioni solide, comunque locali molto strutturati, eventi che funzionano davvero, allora sì che girano anche dei soldi. E soprattutto è importante il fatto tra l'essere richiesto o meno. Sembra una sciocchezza ma non lo è affatto. Se vai te a proporti le condizioni sono molto diverse rispetto a quando qualcuno si viene a cercare. E al di là del fatto che tu possa un po' forzare la mano o chiedere di più, è proprio si ribalta l'approccio. Se la persona ti cerca è interessata a te per qualche motivo e allora in qualche modo hai il coltello dalla parte del manico. Ecco quindi che il discorso sul mercato si struttura anche in base alla richiesta che uno ha. La richiesta è il principale elemento scatenante per riuscire a strappare un buon prezzo e ne abbiamo parlato sul video sul farsi pagare. Perché? Perché i DJ non mancano, soprattutto oggi che è molto facile quanto meno iniziare a farlo. Però se qualcuno vuole te per qualche motivo significa che in qualche modo tu sei riuscito a comunicare o a rappresentare qualcosa di ben preciso, di qualcosa che non è sostituibile con qualcun altro. Ecco che questo è l'elemento chiave per riuscire ad avere un tratto distintivo, uno stile e anche una presenza vera sul territorio. Il mercato dei DJ è esattamente lo stesso anche online. Quando ti affacci su un portale con i tuoi DJ set, quando ti affacci su un social con il tuo profilo, quando ti affacci in qualsiasi contesto, anche proprio dei contest appunto in cui metti le tue produzioni con l'obiettivo di vincere un premio, una release o quant'altro, ecco che lì ti metti in un mercato nel quale devi riuscire in qualche modo ad emergere. Riuscire ad emergere per quello che è possibile ma soprattutto per quello che ti interessa. Non si tratta soltanto di numeri. In tanti hanno provato a gonfiare i numeri per riuscire a strappare chissà che in termini di considerazione. Ecco non è che se hai 10.000 follower comprati riesci ad ottenere una serata in più. Non funziona così. Non funziona per gli influencer che fanno questo lavoro per davvero, figuriamoci per tutti gli altri. I numeri devono essere reali e corrispondenti a ciò che fai. È opportuno per riuscire ad inserirsi in un mercato scegliere bene, anzi benissimo, la propria nicchia. E allora è bene analizzare un po' il mercato su cui ci si trova di fronte sia online che offline. Il mercato locale, il mercato dei DJ in Italia, il mercato delle etichette che è veramente ampissimo e cercare di capire chi veramente rappresenta la nostra piccola nicchia di mercato in modo tale da andare a coinvolgere in quello che facciamo le persone che hanno degli ascolti comuni o degli interessi comuni. Le persone a cui veramente può piacere quello che facciamo noi e non chiunque altro. Ecco che se vogliamo riuscire ad orientarsi a questo mercato così caotico e così sempre pieno, soprattutto dopo l'enorme stop che c'è stato in questa prima parte dell'anno, dobbiamo ripartire dalle nicchie. Quindi studiare chi veramente ha i nostri elementi in comune, i nostri stili, i nostri gusti che apprezza quello che apprezziamo noi e cercare in qualche modo di darglielo, darlo loro e di farsi riconoscere per quello in maniera netta e decisa. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su questo che mi devo essere, dice Ioghi. No! 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 Grazie a tutti